Ed eccoci, abbiamo attraversato da poco adesso e abbiamo attraversato l'infrastrante Vedete, ha fatto caldo, adesso comincia leggermente a spuggerlo il vento, e sta leggermente meglio Passiamo a crescere, qui cazzo Ora si vede anche il fiume Eccolo l'île, quello che abbiamo prima attraversato, qui sotto, con il battello Fa migliare questa inquadratura, eh Siamo passati con bombe, 30 marzo del 2012 Se vi ricordate I tasti in inquadratura E adesso ritorniamo piano piano verso il centro Andiamo verso la macchina Andiamo a farci un giro a colma Così riusciamo a venire tutte due anche Con camo, molta calma Ah, il tempo è migliorato, nel senso, è più fresco Molto più fresco Ah, che figliato Scusate, se sono ripetitivo, non vedo di filmare A Bayroid col no 2 E poi domani saremo all'Europa Park E poi Heidelberg Quanta roba, adesso Che bello il ponte sull'île, uno dei tanti ponti Strade di Strasburgo Strade di Strasburgo Scena di vita cittadina Adesso stacchiamo all'inquadratura della via principale Conosciamo comunque bene Una chiesa Ancora uno scorso di qua Un saluto Dalla via Che va Al Duomo di Strasburgo Sì Un saluto